Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, giovedì 6 maggio, Konami è stato in ritardo e ha fatto anche ritardo su ritardo, perché la manutenzione doveva finire come al solito alle 10, messaggio manutenzione stesa alle 11 e invece siamo andati online ora che sono le 11.06, vabbè, vabbè, comunque finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora, niente aggiornamento della condizione dei giocatori, ultima settimana senza, dovrebbe, dalla prossima si torna, però ci sono tante cose interessanti oggi e sempre oggi c'è la possibilità di vincere Transformers Battlegrounds per console PlayStation, ovvero PlayStation 4 e PlayStation 5 e non PlayStation 3 ovviamente, con il TG Tech c'è questo bellissimo regalo, cosa dovete fare? Alle 15 andare su italiatofgames.it e leggere la domanda che verrà fatta dopo in diretta alle 16 in diretta su Simpli Radio durante il TG Tech, la trasmissione dura un paio di minuti, è una pillola informativa con le tre notizie più importanti della settimana al mondo dei videogiochi, il primo che manderà la risposta corretta al numero tramite sms o whatsapp avrà in regalo questo giochino interessante, divertente per PlayStation 4 e PlayStation 5. La settimana scorsa ha vinto un appassionato, ce l'ha scritto, grazie, ci ha fatto piacere che hai gradito Football Manager 2021, io spero sempre sia un appassionato a vincere, ma per avere in regalo questo gioco dovete assolutamente partecipare, se no non avrete alcun regalo. Su italiatofgames.it alle 15 la domanda e tutte le informazioni su come ascoltare Simpli Radio. Detto questo andiamo un po' a vedere le novità di oggi in PES 2021. Allora, 10.000 GP perché praticamente io non ho giocato questa settimana, sono stato retrocesso in Division 6, pensavo che sarei arrivato in Division 12, ho avuto a che fare con Returnal, gioco esclusivo di PlayStation 5, domani la recensione sempre su italiatofgames, gioco di amore e di odio, profondo amore e profondo odio, perché è davvero molto molto difficile, ma anche un bellissimo gioco. Quindi ho avuto a che fare con lui e quindi, ma ve l'ho detto poi, oramai per me siamo arrivati un po' al digestivo, con PES vedremo con gli europei se ci sarà qualcosa interessante, ma io voglio PES 2022. Comunque vedo quattro regali, i 300 punti football. Sapevamo, la goalball, al solito, campagna login fino al 9 maggio, i preparatori speciali, queste sono le novità di stamattina, per la campagna cubo. Vabbè, diciamo di sì, l'importante è che sono altri 80.000 punti. 10.000 GP dal team operativo, perché io sono stato uno di quelli che ha votato il Bayer Monaco qualche settimana fa nelle prediction, mi avevano dato 100 punti invece di 300 e adesso mi hanno riconsegnato tutti i punti ed anche questi 10.000 GP in regalo, che non dispiacciono. Allora, la prima novità, oltre i preparatori ESP, è che tra le icone sono arrivati quattro nuovi giocatori, più specificatamente Ljungberg, Battistuta 92, Pujol 91 e Roberto Carlos 90. Allora, se io non avessi pescato ieri tre leggende, non avrei fatto nessun sondaggio, non avrei fatto nulla, tac su Roberto Carlos e non c'era alcun dubbio. Però, visto che adesso Roberto Carlos ce l'ho, domani lancio il solito sondaggio in cui inserirò le icone che vorrei prendere con i punti e mi dite voi chi devo prendere. Se Roberto Carlos, appunto, se Del Piero, se Totti, se, e poi ci vorrebbe essere, se Nedved, o se Skolz, se Irvin o se Can. Quindi io vi metterò tutti quanti questi giocatori e sceglierete voi. Io sarei tentato a prendere Roberto Carlos per livellarlo con la leggenda. Quindi, però, ditemi voi, di punti ESP in questo momento ce n'ho a bizzeffe. Quindi, comunque, votate il sondaggio. Vi chiedo di essere funzionali alla mia squadra, la conoscete oramai abbastanza bene, e di non votare a seconda della vostra fede calcistica, cioè di votare Nedved o Del Piero se ti fate Juve, di votare Totti se ti fate Roma, eccetera, eccetera. Siate generosi e ditemi la vostra su chi dovrei pescare, perché, ripeto, lo vorrei livellare Roberto Carlos, o livello leggendario, o livello l'iconico, o Roberto Carlos, però, indubbiamente, oppure una marea di preparatori ESP, questi sono i giocatori, e poi, vi dicevo, qui di preparatori ESP adesso ne ho a Iosa, forse riesco pure a livellare Rashford a questo punto. Staremo a vedere. Comunque, li ballerò e farò tutto in un prossimo filmato. Dopo che avete scelto l'icona, la prendo, eccetera, eccetera, quindi vi faccio vedere tutto. Comunque, vi ribadisco le quattro nuove icone che sono arrivate oggi. Il sondaggio arriverà domani. Ljungberg-Arsenal, Batistuta-Roma, Pujol-Barcellona, Roberto Carlos-Real Madrid. I costi sono simili. Batistuta è il top, Roberto Carlos il meno, però 500 punti di differenza, sempre 26.000 ce ne vogliono. Detto questo, andiamo a vedere le altre novità, che sono l'iconic moment del Manchester United. Prima, intanto, il pool da collezione sta sempre qui, dopo facciamo un giro di pool, verso che ho 47.000 punti. Qualcuno stamattina mi scriveva, ci sarà anche l'icona Kagawa? No, non c'è, ho aspettato, è solo per il mobile, per il gioco, diciamo, per PC e console. Questa cosa non c'era. E ho aspettato prima di pubblicarla, proprio perché mi immaginavo che come campagna mi risuonava più per il mobile. Allora, Manchester United, eccole qui le tre icone. Cole, 91, giocatore interessante, con 23 livelli di crescita, il top è la finalizzazione a 92, Forlan 90, leggermente più basso, qui il suo apice nella potenza di tiro, 92, e poi York, un'altra punta, tutte punte oggi qui, finalizzazione 92, comportamento offensivo 91. Insieme alle tre icone, che comunque sono interessanti, ma fino a un certo punto, soprattutto perché come me, a Rashford che arriva a 101, ovviamente ci sono vari giocatori del Manchester United, ma ovviamente non solo, perché sto vedendo che ci sono giocatori del Bayern Monaco, giocatori del Barcellona, ci sarà anche qualcuno della Roma, della Juve, immagino, perché vedo Ambarabat, proprio quindi di tutto un po', di tutto un po', come al solito, diciamo, per fare il numero di giocatori arrivare a 105. Oggi non c'è altro, ci sono quindi le icone nel punti football, le icone del Manchester United, i preparatori ESP, che sicuramente sono graditissimi, e quindi adesso giriamo la goalball, e giriamo il pull e vediamo come vanno le cose. Il pull lo giro soprattutto per Diego Armando Maradona e stiamo un po' a vedere che succede. In Francia, magari Neymar, così pu e pa, sì, vabbè, buona notte, ok, Savagné, Echia, 81, Ale, convertiamo in ESP, farò un video solo su questo, o poco ci manca, andiamo di pull, siamo a 411 giocatori, e che se, le possibilità di pescare Maradona sono una su 411, ma andiamo avanti, dai, c'è dopo un pull, un regalo, vediamo, e poi tanto. Per me, PES, oramai, è finito, PES 2021. FIFA, eh sì, FIFA, Francia, Francia, Paris Saint-Germain, no, non ci credo, non è Di Maria, infatti non ci credevo, c'ero già Di Maria, palla nera, normale, e vabbè, ci sta, ci sta Di Maria, l'Occielzo e Almenda, sarà Neymar, sarebbe stato meglio, però, mi accontento, casomani, nel livello di Maria, prima lo vedo, siamo a 408, su 450, dai, sono a un passo, da Maradona, mi pare che sia tutto, per oggi ragazzi, controlliamo, se c'è qualche novità, sulle sfide di oggi, non credo, io la Winstreet, ve l'ho detto, questi giorni, non ho giocato, ma non avrei fatto, lo stesso, la Winstreet Challenge, per sole, tre palle nere, onestamente, sì, c'è la Winstreet Challenge, e poi c'è l'European Club Challenge, la prima l'ho fatta, queste non so neppure se le faccio, perché ho tanti di quei preparatori Expo, oramai che, 105, mi bastano, e mi avanzano oramai, bene, siamo vicini, a 7500 iscritti del canale, vi ricordo, come arriviamo a 7500 iscritti, inizio a fare un video al giorno, per spronare Konami, con una motivazione, ogni giorno ci sarà una motivazione, per spronarla, ad annunciare, quantomeno annunciare, PES 2022, vi ricordo ancora, l'appuntamento, con il TG Tech, di oggi pomeriggio, per farvi regalare, Transformers Battlegrounds, che funziona, sia su PlayStation 4, che sia su PlayStation 5, buon PES a tutti, oggi è un aggiornamento, un po' particolare, diciamo un po' misero, da un certo punto di vista, però i preparatori Expo, sono stati sicuramente graditi, dovreste aver già letto, che lunedì, arrivano gli agenti, di Roma e Lazio, che saranno anche protagonisti, del Match Day, della prossima settimana, anche lunedì, non ci aspettano grandi cose, ci si augura, che con l'Europeo, PES 2021, dia un po' il colpo di coda, altrimenti, non voglio dire, siamo, dopo un mese, veramente, di grandi aggiornamenti, Konami, quest'ultima settimana, ha fatto, ha fatto un po' poco, diciamo, quest'ultima settimana, sostanzialmente, e speriamo, e speriamo che sia, come dire, verso, PES 2022, quantomeno, ha un qualcosa interessante, per gli europei, per gli europei, ci doveva essere, un agente speciale, magari, anche delle monete d'oro, si parlava l'anno scorso, questo, non so, a firmarvelo sicuramente, per PES 2021, erano tutte, riguardanti, l'europeo, che si sarebbe giocato, nel 2020, per il rinvio di un anno, Konami, ripeto, potrebbe, riprendere queste cose, e sarebbe, doveroso, anche perché, ha la recenza ufficiale, della competizione, nonostante il DLC, sia già presente, in PES 2021, e fosse stato rilasciato, già, con 2020, qualche cosa deve fare, assolutamente, ma soprattutto, Konami annuncia PES 2022, tra pochissimi giorni, come arriviamo a 7500, iscritti tutti i giorni, ti dico perché, devi annunciarlo, quanto prima, vi ringrazio ancora, per l'attenzione, appuntamento oggi pomeriggio, con il TG Tech, appuntamento domani, con il sondaggio per l'icone, e anche con un altro filmato, che è un po' sui generis, ma sempre dedicato, a PES 2021, diciamo, sì, sì, PES 2022, e non soltanto. Grazie per l'attenzione, buona giornata, buon fine settimana, grazie dell'attenzione, davvero come sempre. Ciao.